L'ala ferita aveva interrotto il suo volo verso le coste africane alle prime ore del mattino sul terrazzo di un'abitazione in via Flaminia ad Ancona. È la storia di un rare esemplare di falco pecchiaiolo salvato dai militari del gruppo carabinieri forestali di Ancona, intervenuti dopo la segnalazione del proprietario dell'abitazione dove il rapace si era fermato. L'animale ora riposi in un luogo tranquillo e verrà trasferito alla clinica veterinaria Sant'Anna di Fabriano per le cure del caso e affidato al centro recupero rapaci gestito dal WWF. Le strutture coinvolte cercheranno di riabilitare l'animale per consentire un pronto ritorno alla vita selvatica. Come ogni anno in questo periodo i falchi pecchiaioli insieme ad altri rapaci approdano sulle coste adriatiche dopo un lungo tragitto. Durante il periodo della migrazione degli uccelli giungono numerose segnalazioni al numero di emergenza ambientale 1515 dei carabinieri forestali e ad altre istituzioni coinvolte nei soccorsi relativi ad animali in difficoltà.